a votare per un tizio che si chiama Cazzola, che vuole la Fornero senatrice a vita. Tenetevi Cazzola, tenetevi la Fornero, noi scegliamo gli operai, gli artigiani, i commercianti e gli emiliani che hanno voglia di lavorare. Viva Casalettio, viva Bologna, viva Emilia e viva la gente educata. Viva la gente educata, siete spettacolari e poi li mandiamo a Sanremo a cantare bella ciao con Rolex. Buona vita, buona fortuna e buona battaglia a tutti. Vi aspetto Maranello che è l'unico rosso che ci piace sabato. Vi faccio solo notare una roba al volo. Loro sono democratici, guardate il titolo del quotidiano La Repubblica di oggi e ditemi se è una roba democratica o no. Gli unici che instigano all'odio e alla violenza sono questi signori qua che si dovrebbero vergognare di scrivere cose. E tu vai a studiare che un po' di educazione civica ti serve. Sfighe! Sediciamo! Grazie! Grazie! Grazie Matteo! Grazie Matteo! As fermano bleedare! Adore! Cappolo! Ciao suggesti! Grazie! 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 Grazie!